e dare il benvenuto a dio e dire allo spirito santo io ti do il permesso di poter agire ed operare nella mia vita il permesso di lavorare nella nostra vita ecco perché è importante ogni giorno permettere lo spirito santo di operare dentro ognuno di noi e ognuno di noi siamo degli strumenti nelle mani che dio utilizza per poter andare a fare miracoli per poter andare a compiere le opere innanzi preparate che dio ha preparato per noi amen perché dio per chi è che non lo dovesse non lo sa dio ha preparato ogni giorno un qualcosa di specifico per la tua vita e non c'è niente al caso se questa sera tu sei qui non è un caso che tu sei qui perché se tu sei qui vuol dire che dio ha qualcosa di specifico per te per questa giornata e nel corso della storia metti la seconda slide ci sono stati tanti uomini che hanno uomini naturali uomini normalissimi uomini che hanno vissuto la loro vita fino a quando hanno incontrato qualcuno che gli ha parlato e gli ha dato delle direttive gli ha dato delle delle cose che loro dovevano fare e attraverso quelle cose che dio gli ha detto di fare probabilmente sono stati presi per pazzi ma alla fine del percorso della loro vita hanno preso i frutti di quello che loro stavano e avevano fatto in ubbidienza a quello che dio gli aveva detto c'è stato un uomo che tutti noi conosciamo noè che alla veneranda età di 600 anni dio gli parla e gli dice costruiscimi un'arca costruiscimi una barca magari noi umanamente pensiamo vabbè faccio pizzi tavola e si fa ma sapete dio diede il progetto a noè di costruire questa quest'arca era così grande che sapete quanto tempo c'è voluto per costruire quest'arca 100 anni 100 lunghissimi anni noè su quel punto di quella montagna costruì quella montagna costruì quell'arca insieme alla sua famiglia e tutto il resto dei suoi compaesani lo prendevano per pazzo dicevano ma chi su una montagna chi sta facendo 100 anni a costruire immaginate come la visione di un uomo invece che aveva ascoltato dio controcorrente lo ha portato poi a vedere il frutto di quello che era la parola che dio gli aveva dato che tutti questi animali gli uomini stessi sarebbero entrati dentro quell'arca e li avrebbe salvati da una morte li avrebbe salvati da una distruzione poi abbiamo l'altro personaggio è abramo che viene chiamato il padre della fede che a 75 anni quanti quanti 75 anni ci sono qui qualcuno faio di fratello immagina per un attimo che dio ti dicesse fratello giuseppe io farò di te padre di una moltitudine avrai tanti figli cioè dio sconvolse la vita di abramo perché umanamente era un qualcosa di impossibile un uomo normale come tutti gli altri ma con una parola specifica o una chiamata specifica e sapete mi piace pensare che dal momento in cui dio ha parlato con abramo al momento che si è verificata la promessa sono passati 25 anni cioè a volte noi vogliamo raggiungere obiettivi vogliamo raggiungere quello che dio ci dice subito no signore se questa cosa non accade ora e allora non è la tua volontà e allora cioè noè sono passati quanti anni a costruire 100 anni abramo ha dovuto aspettare 25 anni abbiamo un altro personaggio mosè chiamato l'amico di dio che dio parla con quest'uomo e gli dice guarda fammi una cortesia me lo fai un trasloco di due milioni di persone dall'egitto in quest'altra terra promessa cioè lui quest'uomo ha dovuto parlare come condottiero di questo popolo a trasportare a far seguire all'età di 80 anni due milioni di persone da un paese ad un altro quanto tempo passò? 40 anni il deserto a volte veramente lasciamo le redini allo spirito santo fidiamoci di dio e lui sicuramente ci porterà nella nostra terra promessa abbiamo qualche altro esempio Giuseppe uomo integro che da venduto dai suoi fratelli andò alla corte di Potifar e da lì dopo 14 anni divenne vice re o Davide che da custode di pecore fino a un certo punto chiamato unto per essere re di Israele ma dal momento in cui fu unto passò del tempo fin quando Davide prese il suo ruolo di re ecco che comprendiamo che nella vita in ognuno di noi c'è un tempo e c'è un percorso che noi dobbiamo portare avanti è quello che a tutti questi uomini di fede li hanno portati a rimanere fermi perché una delle parliamoci chiaramente tanto siamo framente una delle dei difetti di noi esseri umani è che dopo un poco se non otteniamo subito una cosa ci arrendiamo allora signore vuoi dire se Dio non mi parla oggi allora io non ci credo più cioè a volte pensiamo e diciamo stabiliamo noi i tempi del Signore ma questi uomini sapete da tutti questi grandi uomini Noè, Abramo, Mosè, Giuseppe da che cosa erano condotti da un sogno da un qualcosa che Dio aveva messo nei loro cuori avevano una visione davanti e loro sapevano io non lo so quando questa visione si adempirà ma io so che Dio lo farà e a volte noi dobbiamo essere guidati anche dall'esempio di questi uomini di Dio che hanno perseverato per cento quattordici venticinque quaranta anni della loro vita fino al raggiungimento della promessa che Dio aveva stabilito per la loro vita e quando sono rimasti fermi e hanno visto questo Dio li ha completamente benedetti Amen e questi uomini oggi non sono ricordati per quello che hanno fatto per il passaggio del deserto eccetera ma sono ricordati per quello che sono diventati e quindi ognuno io e te non è il percorso il tempo che spendiamo nel raggiungere la chiamata di Dio ma quello che ricorderà me e te sarà quello a cui Dio ci ha chiamati ad essere Amen a credere in quello che Dio vuole per ognuno di noi e il proposito di Dio è una cosa importante non è compiere cose non è fare delle delle traversate io mi ricordo che ho fatto questo a volte viviamo dei ricordi mi ricordo quando ero in una chiesa vecchia la sì che era bello il momento quando c'era ma ecco che suonava mi ricordo noi dobbiamo guardare avanti a quello che Dio sta preparando per noi a me secondo me cioè dobbiamo guardare a quello che Dio ti ha chiamato ad essere e a come Dio vuole giorno dopo giorno trasformare le nostre vite perché l'obiettivo della fede la vera spiritualità non è quello che fai ma è come Dio ti cambia e da questo la gente riconoscerà che siamo veramente dei credenti io ringrazio Dio perché in ognuno di voi che vi guardo e vi conosco da quando vi siete convertiti vedo la trasformazione in ognuno di voi tutto quello che eravate prima non c'è più e siete delle nuove persone e questo è solo per dare gloria a Dio per dire guarda quella persona io non ci avrei scommesso manco dieci centesimi guarda oggi è veramente l'opera straordinaria che Dio fa nelle nostre vite in fondo Dio non sta cercando persone che fanno cose ma Dio sta cercando persone che camminano con Lui Dio non sta cercando qualcuno che faccia qualcosa certo è importante fare le cose perché non tu fa niente che stai facendo non sto aspettando di essere trasformato no ma quello che Dio sta cercando sono cuori pronti ad essere cambiati e trasformati e infatti Dio cerca adoratori non cerca operai cerca adoratori e quando saremo degli adoratori allora saremo dei buoni operai quando saremo degli adoratori saremo bravi a compiere le opere che Dio ha stabilito per noi ma perché il fulcro il centro la cosa più importante che Dio ha preparato per noi è questa intimità con Lui se noi stiamo col Signore allora poi faremo delle belle cose con Lui altrimenti saranno soltanto azioni che non portano da nessuna parte secondo me che cos'è l'unzione slide definizione l'unzione è uno speciale equipaggiamento dello Spirito Santo nella vita del credente per adempiere il piano di Dio e per compiere le opere precedentemente preparate da Lui per noi che cos'è l'unzione l'unzione è un equipaggiamento che Dio mette in ognuno di noi che ci equipaggia che ci abilita che ci fortifica che ci dà l'unzione per poter fare quello che Dio ha stabilito per ognuno di noi tutto quello che noi facciamo fuori dall'unzione senza l'unzione di Dio non ci porterà a vedere il proposito di Dio nella nostra vita ci porterà a fare cose nella carne ma quando noi facciamo le cose nell'unzione dello Spirito Santo questo ci porterà verso il proposito di Dio a compiere il piano che Dio ha stabilito per noi e quindi fondamentale nella vita di ognuno di noi è che manteniamo questa connessione con Dio Dio vuole Dio non cerca non è una religione noi non abbiamo aderito ad una religione perché già di religione ne eravamo pieni già eravamo stracolmi di religiosità di precetti di cose da fare se fai questo va bene se non fai questo non va bene amèn secondo me ma quello che noi abbiamo cercato e grazie a Dio abbiamo trovato è un'esperienza personale col Signore un'intimità con Dio che ci permette di poter relazionarci con questo Dio che probabilmente prima abbiamo sempre visto lontano giudicante Dio che ci guarda oggi stiamo sperimentando passo dopo passo giorno dopo giorno quest'intimità che Lui vuole con noi che Lui ci ha creati per avere intimità con Lui Dio ha creato Adam e Deva per che cosa? per avere comunione per stare lui scendeva immaginate Dio non diceva aspevo Signore ti pighi ascensore a chi è anennemi ad Adam e Deva no era Lui che scendeva nel giardino dell'Eden e andava a cercare Adam e Deva la sua creatura perché il desiderio di Dio è di stare con noi ecco perché giornalmente noi dobbiamo desiderare con tutto il cuore di avere intimità e comunione con Lui è un percorso è un processo perché naturalmente molti mi fanno questa domanda pastore ma io come faccio a sentirlo come faccio a sentire la sua voce come faccio a capire che Dio esiste veramente e molto spesso noi consigliamo di iniziare passo dopo passo perché se tu subito ti pigliai questa patente oggi e già ti accatta Ferrari non si può fare quello che piano piano dobbiamo fare è cominciare a prenderci un pochettino di tempo alla sua presenza metterci la musica cominciare a leggere la Bibbia e piano 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 che entriamo in questa abitudine di relazione col Signore cominceremo ad ascoltare sempre di più e meglio la sua voce Amen in prima Giovanni 2 versetto 20 dice parla di un qualcosa di importante perché Dio ha messo dentro di noi tutto quello che ci serve che è lo Spirito Santo e dice prima Giovanni 2 20 dice ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa l'apostolo Giovanni dice io ho messo dentro di te l'unzione e quindi non la devi andare a ricercare ma come faccio ma come hanno acceso il condizionatore ora si comincia quelli sono i posti super freschi Dio l'ha messa dentro di noi l'unzione e quando tu ricerchi questa intimità con lui vedrai che giorno dopo giorno questa intimità crescerà e crescerà questa relazione col padre quando dice conoscete ogni cosa il termine originale della parola conoscete è Eido che vuol dire vedere percepire ed essere sicuro di quindi dice io ho messo dentro di te tutto quello che ti serve che è lo spirito e tu comincerai a vedere percepire ed essere sicuro di quello che io ho messo dentro di te quindi Dio dice si tranquillo abbi fiducia perché prima o poi sentirai la mia voce la mia presenza nella tua vita in seconda corinzi 1 versetto 21 dice ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e che ci ha uniti è Dio qua sta dicendo qualcosa di importante come faccio a sapere che veramente Dio ha messo dentro di me lo spirito santo solo picchi urici urici crero questa scrittura dice quello che ti conferma questo è Dio stesso e quindi tu senti dentro di te questa consapevolezza questa che si chiama testimonianza interiore che sai che sei figlio di Dio che sai che appartieni al re dei re sai che appartieni al Cristo Signore Amen in questi ultimi culti l'apostolo ha spiegato che nell'antico testamento c'erano c'era l'unzione dello spirito santo era sopra le persone sopra gli unti di Dio sopra i profeti sopra i i re profeti e sacerdoti ma studioso re profeti e sacerdoti ma con l'avvento del nuovo testamento della nuova alleanza che Dio fa con i suoi figli accade qualcosa di straordinario c'è anche lì un trasloco l'unzione che prima era accanto a loro entra dentro di loro lo spirito santo decide di vivere dentro di noi in atti 1 8 dice proprio questo ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi fermiamoci un attimo a volte noi nella vita spirituale pensiamo e diciamo ma pastore questa cosa come posso affrontarla tu hai compreso quello che c'è scritto qua qui c'è una chiave straordinaria della vita non solo di un pastore o di un responsabile ma di tutti noi la bibbia dice che quando lo spirito santo comincia a vivere dentro di noi noi riceviamo potenza e quindi quella potenza di Marco 28 di Matteo 28 che dice imporranno le mani agli infermieri si guariranno cacceranno i demoni e tante tante cose che Dio ha assegnato attraverso lo spirito santo che vive dentro di noi quindi ma voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi mi sarete testimoni in Gerusalemme in Giudea in Samaria fino all'estremità della terra quindi lo scopo per il quale Dio ci ha donato lo spirito santo dentro di noi e quindi la potenza di Dio dentro di noi è per essere dei testimoni per poter testimoniare di Dio in tutte le estremità della terra qua parlavano dei territori conosciuti della Samaria della Giudea certo un benavità di Giri in Giudea o in Samaria però non è tanto buono andare da quelle parti giusto però mettici per un attimo a Paitinico a Borgetto a Montelepia a Terrasini ad Alcamo a Balestrate tra Petamen e fino a tutte le estremità dico io del golfo di Castellammare Dio ti ha dato la potenza dentro di te per poter essere un buon testimone del suo angelo e quindi l'unzione su di noi è legata alla chiamata rivolta dal Signore ad una persona è data dal Signore per servirci quindi l'unzione sopra è data perché Dio ti sceglie e quindi mette su di te la sua l'unzione che serve per poter adempiere alla chiamata che Dio ha stabilito per te quando tu evangelizzi l'unzione di Dio è sulla tua vita e quando tu parli o preghi per qualcuno l'unzione di Dio è su di te e ti equipaggia per poter essere efficace in tutto quello che fai amen poi abbiamo detto che l'unzione è anche dentro di noi e questa è la presenza proprio dello Spirito Santo che vive dentro di noi dice così ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace non è menzogna dimorate in Lui come essa vi ha insegnato quindi l'unzione di Dio è dentro ognuno di noi e cosa serve l'unzione dentro di noi perché lo Spirito Santo è venuto dentro di noi se ne poteva chiedere sempre a fare perché Dio ha deciso di venire dentro di noi perché quando lo Spirito Santo l'unzione sopra ci serve per equipaggiarci in quello che facciamo quindi noi parliamo di Gesù parliamo le persone allora chiediamo Signore ti prego ungimi per quello che sto facendo dammi la tua unzione su di me e allora tu parli preghi eccetera ma l'unzione dentro ti serve per guidarti per darti consolazione per darti tutto quello che ti serve a te personalmente per poter vivere la tua vita di tutti i giorni amen per preservarci ci aiuta ci dà direzione ci dà sapienza ci dà equilibrio ci dà stabilità è quella che ci permette la presenza dello Spirito Santo l'unzione dello Spirito Santo dentro di noi è quella che ci rende stabili e ci permette di poter vivere la nostra vita col Signore se solo vivessimo di unzione sopra come accadeva nell'Antico Testamento sicuramente vivremmo delle cose spirituali ma saremmo instabili come nell'Antico Testamento abbiamo avuto esperienza studiando la storia di Saul che aveva l'unzione profetizzava ma a un certo punto quando l'unzione andava via dalla sua vita cominciava ad avere paura cominciava ad essere tormentato dai demoni siete con me ma quando l'unzione di Dio dimora dentro di noi quello ci dà stabilità quello ci permette di poter vivere la nostra vita sì è vero che passeremo momenti difficili avremo tempeste spero che non ne abbiamo mai però anche se dovesse capitare sappiamo che lo Spirito Santo dentro di noi è quello che ci dà la stabilità e ci dice non ti preoccupare anche se passerai dei momenti difficili io sono con te non temere e quindi l'unzione dentro ci guida anche verso la verità per rimanere fermi rimanere stabili contro tutti quelli che sono gli attacchi quanti si sono accorti che il diavolo non gli piace quello che facciamo eh sì me ne sono accorti da un paio di giorni quanti veramente si sono accorti che auguriamo non ci piace e ne attacca ne metto un sacco di camorrie quello malato quello sta male lo picciridiano si continua a pregare per Matteo il figlio di Giulio Antonino che ancora è ricoverato in ospedale che si è bruciato si è ostionato e veramente il Signore sta continuando un'opera nella sua vita stanno andando molto meglio le bruciature però ancora è lì i genitori che stanno passando un momento difficile e noi siamo vicini con la nostra preghiera man anche se passeremo momenti difficili la presenza dello Spirito Santo dentro di noi ci rende stabili ci rende forti forti per poter affrontare anche i momenti più tremendi e più difficili perché Dio non solo vuole vivere dentro di noi ma il desiderio è il motivo per cui Dio ha deciso di mettere lo Spirito dentro di noi perché vuole guidarci ma non perché non un afframo a cui cioè io qualche stato due stati fa ho cominciato a fare lezioni di guida a mia figlia Noemi e i primi giorni quando salivamo su quella macchina era veramente un'intercessione continua dice papà perché preghi amore mio questa estate devo cominciare con Davide anzi no con Matteo Matteo Davide quindi andato ancora per te presto con Matteo quindi pregate per me perché la povera macchina nuovamente soffrirà oggi mia figlia dopo due anni che guida la macchina guida perfettamente i primi tempi gli ha fatto diciamo la barba diciamo fino quasi all'osso diciamo nella macchina ma adesso diciamo grazie a Dio la macchina diciamo riesce a tornare la sera senza essere anche sempre più distrutta Dio vuole condurre la nostra vita anche se a volte magari noi all'inizio non sappiamo bene come guidare non sappiamo bene come lasciarci guidare non sappiamo bene come fare però se noi permettiamo allo Spirito Santo di condurci di dire Signore io ancora non so guidare bene non lo so come devo fare però per piacere aiutami tu guidami tu dimmi tu dove devo andare dimmi tu cosa devo fare e allora lì veramente viviamo benedetti perché mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio e siamo certi che Lui ci farà vivere bene perché non soltanto Dio deve avere la residenza dentro di noi ma come diceva l'Apostolo Dio desidera avere la presidenza della nostra vita Dio vuole guidare vuole prendere Lui il volante ti vuole far mettere dal lato passeggero dice mettiti di là voglio guidare io perché io so la strada perché Lui sa la fine oggi parlavo con i miei figli e dicevo questo sapete perché Dio vuole guidare Lui la nostra vita ed è facile abbandonarci a Lui perché Lui già sa la fine e quindi proprio perché Dio sa la fine della nostra vita Lui sa condurci nel percorso della nostra vita perché conosce tutto di noi e quindi Dio vuole la presidenza della nostra vita la residenza è un'opera di Dio ma la presidenza glielo dobbiamo dire noi glielo dobbiamo noi fare la residenza nel momento in cui accettiamo Gesù Lui viene a vivere dentro di noi ma la presidenza gliela dobbiamo dare noi è una resa dobbiamo dire Signore fai tu di me quello che vuoi e se ha la residenza Lui è pronto per operare ma se ha la presidenza Lui sta lavorando se ha la residenza Lui ha un progetto per il tempo se ha la presidenza Lui sta edificando il nostro tempio se ha la residenza Lui è coscienza disponibile se ha la presidenza Lui è sapienza per una vita pratica perché Lui ci dà sapienza Lui ci conduce nella nostra vita se ha la residenza Lui è la forza per vincere il peccato ma se ha la presidenza Lui è la vittoria per il peccato a volte noi cerchiamo Signore aiutami Signore dammi la forza per ma quella forza è dentro di te non la devi andare a cercare da nessun'altra parte vive dentro ognuno di noi e quindi questa sera io voglio che ognuno di noi possiamo desiderare di dare allo Spirito Santo di dare a Dio la conduzione della nostra vita Signore conduce la mia vita ti do la presidenza della mia vita anzi facciamo una cosa chiudiamo i nostri occhi e facciamo questa preghiera con tutto il nostro cuore ripeti con me Signore io ti chiedo che tu possa avere la presidenza della mia vita e che con te io sono certo che tutto andrà bene nel nome di Gesù Amen e quindi quando tu dai la presidenza della tua vita a Dio tu sei certo che tutto andrà bene Amen Ma io la presidenza canta a te ma in ogni cosa bella c'è sempre ma dice ti offro questo lavoro ma c'è sta postilla piccolina piccola scritta che c'è sempre qualche cosa ma quindi Dio vuole guidarci vuole darci tutto quello eccetera ma questo non si manifesta automaticamente nella nostra vita non è che perché abbiamo lo stemmetto PDG oppure siamo diciamo abbiamo accettato Gesù e allora tutti siamo cambiati e diversi no c'è una parte che fa Dio ma c'è anche una parte che dobbiamo fare noi Dio vuole che noi collaboriamo con Lui Dio vuole che noi abbiamo una relazione con Lui e soprattutto verso prima Tessalonicesi 5 versetto 19 Dio vuole che non spegniamo lo spirito perché a volte il rischio che viviamo la nostra religione la nostra esperienza di fede veniamo in chiesa ci piace la loda è bella i responsabili sono tutti preparatissimi però ancora non ci siamo resi ancora non abbiamo fatto una scelta ancora non abbiamo fatto il nostro passo in avanti nel dire signore io voglio fare la mia parte signore voglio essere parte di questo cambiamento signore voglio essere parte di questo risveglio perché lo spirito santo è il collegamento tra il cielo e la terra ecco perché nel momento in cui noi creiamo quest'intimità con lo spirito santo questo rapporto con lo spirito santo questa relazione con lo spirito santo allora possiamo attingere dal cielo e portarlo sulla terra possiamo ricevere dal Dio tutte quelle che sono le parole che cambieranno la nostra la vita delle persone accanto a noi e li porteremo sulla terra mi è piaciuto molto che i ragazzi hanno messo in scaletta il fuoco nei tuoi occhi perché avere il fuoco acceso nella nostra vita è fondamentale per poter vivere la nostra vita spirituale ripiena dello spirito santo avere il fuoco acceso mantenere il fuoco acceso quando dice non spegnete lo spirito è perché il rischio che nella la vita di tutti i giorni rischia di farci spegnere e lo vedo a volte persone magari da tanto tempo che vengono in chiesa che dicono pastore quando ti fanno quelle richieste magari vengono avanti pastore ti prego prega per me perché vorrei avere lo stesso fuoco che avevo all'inizio quando mi sono convertito che magari quando ci convertiamo pensiamo che tutto è perfetto pensiamo che il pastore è juventino ma poi ti accorgi che è interista pazienza pensi che tutti sono perfetti e che nessuno può sbagliare pensi che ma proprio ti accorgi che non è come stavi pensando e allora lì dice mi inizia e ora e allora lì poi c'è la nostra crescita spirituale c'è l'avere un responsabile di riferimento che ti dice lo so pure io ci ho pensato all'inizio pure io pensavo che era juventino ma non ci posso fare niente e comprendi e cresci e maturi spiritualmente ed è per questo che la Bibbia ci dice di non spegnere lo spirito di tenere acceso questo fuoco attraverso la preghiera attraverso la lettura attraverso la comunione fraterna una delle cose che i discepoli non si facevano mancare mai sapete che cos'era il rompere il pane insieme lo stare insieme avere comunione fraterna stare insieme questo è importante oltre che pregare meditare leggere la Bibbia eccetera perché questo tiene il fuoco acceso perché quando si è insieme si ci può incoraggiare a vicenda eccetto se quando si è insieme non si va avuto chi sparare l'avuto non è buono ma se lo stare insieme è un incoraggiamento gli uni per gli altri è fantastico amen e quindi la Bibbia ci incoraggia a non spegnere lo spirito a non ostacolare l'opera di Dio a non ignorare quello che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita e attorno a noi mantenendo il fuoco acceso ma per poter mantenere questo fuoco acceso io mi ricordo che quando qualche volta abbiamo fatto le pizze sporadicamente perché non abbiamo fatto questi pizze organizziamo quando accendevamo perché io sapete io a casa mia ho fatto il forno delle pizze ma io non so fare le pizze quindi però so accendere la legna e già chissà la prima cosa Stefano è professionista di pizzaiolo abbiamo visto però so perlomeno le so girare le so prendere mettere nei piatti quindi già chi se ne ha cosa me ne so già vaggio e le so mangiare quello sicuramente però una cosa di cui mi sono accorto a mie spese perché poi mi sono comprato pure il termometro digitale per controllare un piano che si raffreddava perché dicevo ste ma cavi i pizze venne male e poi se deve stare sempre ad una certa temperatura eccetera che la legna va aggiunta cioè non puoi fare che metti il fuoco all'inizio e metti i pizze no la legna la devi cominciare ad aggiungere quando vedi che il fuoco comincia un pizzaiolo mi disse una volta quando tu non vedi più niente dentro devi capire che devi mettere l'altra legna questo mi ha fatto comprendere che il fuoco da solo non si mantiene va alimentato e il nostro zelo il nostro amore per Dio quello che noi abbiamo conosciuto del Signore stupendo bellissimo accettiamo Gesù ma se non alimentiamo quel fuoco che Dio ha acceso dentro di noi rischia negli anni di spegnersi e questo tu lo puoi fare pregando leggendo la parola ma avendo comunione fraterna con i fratelli e la chiesa amen e Dio si usa di ognuno di noi dicevamo all'inizio abbiamo parlato di quegli uomini che oggi sono tra gli eroi della fede Abramo Noè Giuseppe eroi eroi citati i loro nomi scritti immagina avere il nostro nome scritto nella Bibbia una nostra storia nella Bibbia wow tutti leggeranno di quella storia ma questi uomini per avere scritto il loro nome nella Bibbia probabilmente qualche cosa l'hanno fatta da uomini normali hanno creduto in un Dio sovranaturale in un Dio potente che li ha portati a sperimentare a vivere la loro vita in una maniera diversa abbiamo un altro esempio per esempio che anche Pietro andiamo un po' più vicini a noi Pietro era molto molto simile a noi pescatore una persona semplice però un uomo di fede che a un certo punto arriva questo Gesù e gli dice seguimi eh io avrei detto chi? in che senso? lascia tutto e seguimi aspettami io c'è un centro di fisioterapia devo fare questo c'è come faccio a seguire? c'è Pietro a un certo punto della sua vita lavorativa perché stava lavorando era lì con le reti mentre Gesù l'ha chiamato lascia tutto e tutti i colleghi Pietro che fai? no lì mi ti segui come? è assenza in giustifica segue Gesù uomo semplice un semplice pescatore illetterato timido introverso istintivo ma da quest'uomo semplice lo fa diventare un apostolo un uomo che probabilmente nessuno avete vista la serie c'è Pietro ci penso io già da discepolo di Gesù allora che va a fare ci penso io era meglio di tutti Giovanni tu ne capisci niente tu sei sempre Matteo tu sempre che scrivi perché non è un problema cioè questo era Pietro cioè Pietro era impulsivo e era uno di quello che probabilmente si lanciava e poi faceva disastri ma vedete come Dio abbia cambiato un uomo come noi e l'abbia fatto diventare un servo straordinario un uomo che ha fatto cose per Dio fantastiche scritto nella Bibbia un uomo che ha ricevuto la rivelazione di Gesù come il figlio di Dio Gesù gli risponde né carne né sangue ti hanno rivelato questo ma solo il cielo te l'ha potuto dire sei con me era quello stesso Pietro che diceva oh ci penso io e quindi Pietro a un certo momento della sua vita al momento della chiamata di Gesù nella sua vita interrompe mi è piaciuta molto questa frase interrompe il suo programma ognuno di noi ha dei programmi certoni hanno quelli tipo davanti alla televisione programma come si chiama quello delle cucine da incubo beautiful no beautiful ancora c'è ancora c'è che puntata siamo se c'è 8000 ci hai preparato sei lo sei ma nella vita di Pietro che cosa è accaduto Pietro ascoltami Pietro ha interrotto il suo programma per seguire il programma del maestro lui ha deciso guarda questa scena ha deciso di prendere il telecomando e fare spegnere la televisione e ha detto io ti seguo ha deciso di smettere il programma che stava seguendo della sua vita e cominciare a fare quello che Gesù aveva preparato per lui e per poter vedere la nostra vita benedetta noi dobbiamo avere il coraggio di fare la stessa cosa spegnere il programma della nostra vita e decidere e di dare la nostra vita da condurre lo spirito santo scelse di fare questo ma dopo tre anni dopo che Gesù è stato con loro è morto poi è risorto anzi non subito dopo la morte a un certo punto è caduto lo sconforto nella vita dei discepoli e ora leggeremo un verso che cosa aveva fatto Pietro era tornato di nuovo a pescare perché probabilmente tutto quello che lui aveva passato lo aveva portato sia a crescere aveva fatto una scelta però poi le situazioni della vita la morte di Gesù lo aveva portato nello sconforto di dire ok Mize e ora ritornerò a pescare e quante volte nella nostra vita abbiamo rischiato di dire basta ritorno alla mia vecchia vita ritorno a fare quello che facevo prima ritorno ad essere quello che ero prima ma Dio non vuole questo per noi perché dopo che Gesù resuscita ora leggeremo un verso Dio lo rimette Gesù lo rimette in carreggiata lo rimette nel suo proposito lo ricolloca nella strada che lui aveva tracciato per lui guardate cosa dice Giovanni 21 versetto 3 Simon Pietro disse loro vado a pescare non è finita qua egli essi dissero veniamo anche noi con te sai che a volte le nostre scelte possono condizionare le persone che ci stanno accanto le nostre scelte sbagliate possono condizionare la nostra famiglia le nostre scelte sbagliate possono condizionare i nostri amici secondo me ma nel giorno di Pentecoste i discepoli vengono riempiti di Spirito Santo Gesù resuscita e a un certo punto riporta rimette Pietro nel suo percorso nella sua strada e da quando vengono riempiti di Spirito Santo Pietro ritorna ad essere l'uomo che Dio aveva stabilito che Dio aveva chiamato da un uomo pauroso lui acquisisce franchezza da nascondersi comincia a parlare ad alta voce lui si nascondeva quando Gesù era morto ma tu sei uno di quelli no ma non ne faccio niente ma tu non sei evangelico di quelli di Pia Pitagora Pietro che cosa fa ritorna a predicare ad alta voce da insicuro diventa determinato da deluso e frustrato diventa zelante da rinnegare Gesù raggiunge 3000 persone con una predicazione tutto questo attraverso l'opera dello Spirito Santo dentro di lui ecco perché se comprendiamo il valore e l'importanza che lo Spirito Santo ha dentro di noi Dio lo ha messo dentro di te e come è successo Pietro non lo aveva prima ma nel momento in cui lo Spirito Santo è sceso dentro di lui lui è cambiato e ha cominciato a prendere il frutto della chiamata di Dio nella sua vita attraverso lo Spirito Santo i doni che Dio ha messo dentro di noi vengono ravvivati attraverso lo Spirito Santo il dono che Dio ha stabilito dentro di te che Dio ha messo dentro di te facendo crescere questa intimità con lo Spirito Santo comincerai a muoverti in quel dono sapete da quando è venuto il profeta Arfush quanti hanno visto che persona straordinaria che è il profeta Arfush quanti vorrebbero un profeta Arfush c'era la loro casa la loro casa la loro chiesa casa un piccolo Arfush tutti un gadget la metà eccetera questa questo conoscere quest'uomo di Dio fortissimo con un'intimità con lo Spirito Santo così forte ha scaturito dentro di me una santa gelosia e io ho detto dentro di me ma perché lui si e io no ho detto ma perché lui può ricevere da parte di Dio e io non ricevo le stesse rivelazioni e ho cominciato a lavorare sulla mia vita e Dio si sta muovendo Dio si sta manifestando amen perché lo stesso Spirito Santo che è nella vita del profeta Arfush è nella mia e nella tua vita secondo me qualcuno può fare così insieme a me questo significa sono d'accordo con quello che stai dicendo lo stesso Spirito vive dentro di noi atti 2.17 avverrà e avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni quando lo Spirito Santo si muove e diamo il permesso allo Spirito Santo di poter agire annullando la nostra volontà dicendo Signore guida tu Signore guida tu io non lo so cosa fare io per i culti ormai faccio questo vi faccio una confidenza tanto non lo sa nessuno cioè se siamo fra di noi e tutti quelli che ci seguono online non lo saprà nessuno il pastore Gio ci lo saprà domani allora io quando mi preparo per il culto dico sempre Signore io non lo so cosa tu farei alla fine ma io non mi voglio preparare niente per la conclusione del culto perché do tutto nelle tue mani e quando noi permettiamo a Dio di poter fare questo non soltanto in un culto pubblico ma nella nostra vita di tutti i giorni che a volte noi siamo di quelli programmatori agenda appuntamenti faccio questo faccio questo faccio questo devo fare questo devo fare questo poi c'è questo poi dopo quello devo fare questo ma quando invece lasciamo il controllo della nostra vita allo spirito santo vedremo che Dio ci darà sogni ci darà visioni ci darà rivelazioni profetiche amen e quindi la chiesa degli atti quindi la prima chiesa dove c'era Pietro tutti i primi apostoli che hanno fondato tante chiese in giro Corinti Testanoia tutto quello che studiamo domenica per domenica avevano capito che la chiave la chiave dire alla persona che ha cantato è chiave chiave che la chiave del sovrannaturale era lo spirito santo e avendolo ricevuto avevano la chiave per poter accedere al sovrannaturale e quindi ha iniziato la chiesa ha iniziato e camminato nella pienezza dello spirito santo l'apostolo Paolo operava nella pienezza dello spirito santo e Paolo scrive alle chiese e dice di camminare nella pienezza dello spirito santo ieri mi è arrivata l'email dell'apostolo Paolo che diceva alla chiesa di Partinico camminate nella pienezza dello spirito santo quindi vi aggiorno sull'ultima email mandata all'apostolo Paolo anche noi vuole che camminiamo nella pienezza dello spirito santo Efesi 5 versetto 18 dice e non vine briate divino nel quale vi è dissolutezza ma siate ripieni di spirito e quindi noi possiamo vivere un cristianesimo efficace un cristianesimo pieno ripieno di lui solo se siamo ripieni solo se siamo ripieni di spirito santo e quindi a questo punto la domanda nasce spontanea dice cosa posso fare per non fare spegnere lo spirito santo perché ci sono magari momenti della vita che noi siamo pastore sono ripieno sono tutto ma come posso fare invece magari vai sul per ora ma come si fa per ora sogna così e mio padre definiva sempre un giorno a primo piano ti ricordi e un giorno a piano terra un giorno a primo piano e un giorno a piano terra ma Dio vuole che noi viviamo sempre nello spirito amen slide l'ultima slide no no non è questa quella del cosa posso fare per non spegnere lo spirito esatto cosa possiamo fare per non spegnere lo spirito tre cose uno parlare in altre lingue due dialogare con lui tre adorare il signore la prima cosa che dobbiamo fare per poter rimanere connessi per poter avere il fuoco acceso dentro di noi dobbiamo parlare in altre lingue quanti parlano in altre lingue ok chi non parla in altre lingue alla fine del culto faremo un appello tutti quelli che non parlate in lingue pregheremo per voi perché desideriamo che possiate ricevere il battesimo dello spirito santo perché per poter vivere nel mondo dello spirito abbiamo appena predicato abbiamo appena detto che i discepoli che entrarono furono battezzati di spirito santo nel giorno di pentecoste furono ripieni di spirito santo amen e quindi la prima cosa è parla in altre lingue l'apostolo paolo scriveva io ringrazio dio perché parlo in altre lingue più di tanti voi ma perché diceva questo perché se voleva spesso i miei figli dicono io fate avanti dice non è che se voleva vantare l'apostolo dice io parlo più di voi ma perché l'apostolo paolo comprendeva e sapeva che il parlare in altre lingue era una qualcosa di indispensabile per la vita del credente perché ci fa stare bene in tutto nel nostro spirito nella nostra anima nel nostro corpo e produce benessere nella nostra vita ma non è parlo in lingue tre minuti ma devi parlare in lingue quanto più puoi sei in attesa alla posta parla in lingue certo un'altra voce perché sono ti picchino per poi quella gente dice puoi parlare pure sottovoce puoi parlare mia mamma pregava in lingue in mente addirittura quando era in posti dove non poteva farlo a voce alta prega in altre lingue quanto più puoi perché questo serve a te stesso c'è un verso che dice prima Corinzi 14 4 dice chi parla in altre lingue edifica se stesso chi profetizza edifica la chiesa abbiamo visto che cosa è la profezia quanto ha edificato la chiesa ma qua parla della parlare in lingue chi parla in altre lingue edifica se stesso tutto noi stessi se sei abbattuto nell'anima parli in lingue ti passa se hai un problema fisico parli in lingue questo può portare pure guarigione nella tua vita sei con me cioè comprendiamo quanto è fondamentale ed importante parlare in lingue io l'apostolo Paolo diceva io ringrazio Dio perché parlo in lingue più di tutti voi quindi chi sape quanto pregava in lingue l'apostolo Paolo cioè forse ogni tanto si ricordava di parlare nella sua lingua naturale talmente parlava in lingue la seconda cosa è dialogare con lui avere un rapporto di intimità con Dio parlare cercare qualche domenica fa ricordate abbiamo ho portato l'esempio di dire noi ci diciamo sempre non ho tempo non ho tempo qualcuno mi arriva qualche testimonianza che mi ha detto pastore ho preso il tuo consiglio mi sono alzato mezz'ora prima perché se noi veramente dobbiamo riuscire a trovare il tempo durante la giornata il diavolo non ce lo fa però noi lo prendiamo in giro il diavolo diciamo eh non hai tempo e io ti frego mi sono su mezz'ora prima e quindi noi nel momento in cui ci alziamo prima diciamo ok tap ti ho fregato me lo sono trovato il tempo Apocalisse 3 versetto 22 dice chi ha orecchie ascolta quello che Dio dice che lo spirito dice alle chiese ecco per poter ascoltare quello che lo spirito dice alle chiese dobbiamo prenderci del tempo per parlare con lui perché se non stiamo alla sua presenza che cosa possiamo ascoltare e anche Apocalisse 3 versetto 20 dice ecco io sono alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce apre la mia porta io entrerò da lui cenerò con lui ed egli con me quindi qua scopriamo veramente quanto non solo è una cosa che ci fa bene pregare ma è un desiderio di Dio Dio vuole che noi abbiamo comunione con lui che noi parliamo con lui lui lo desidera lui ci ha creato per questo io sono alla porta del cuore busso quante volte è capitato di e tu dici chi è di sentire bussare alla nostra porta e sapete quante volte siamo arrivati in determinate situazioni dove abbiamo sentito che Dio era lì che stava bussando e noi avremmo dovuto soltanto aprire la porta e dire sì signore accolgo quello che tu mi stai dicendo accolgo quella parola accolgo quel messaggio lui è lì che vuole che noi apriamo la porta del nostro cuore e solo quando decideremo volontariamente di aprire il nostro cuore a lui e allora lì veramente lo spirito entra dentro di noi e comincia a fare un lavoro comincia a portarci per la mano direzionarci verso il percorso e la strada che che Dio ha stabilito per noi lui ci prende per mano ci prende per mano ci conduce non ci lascia soli non ci neanche sapete a volte pensiamo che vabbè ma Dio è interessato anche a questa cosa della mia vita sì Dio è interessato ad ogni area della nostra vita non c'è niente che Dio vuole tralasciare in noi amen non c'è niente a cui Dio non interessi della nostra vita perché lui ci ama interamente e completamente e allora quando comprendi questo quando comprendi che c'è un profondo desiderio di Dio allora non puoi fare altro che rispondere terzo punto adorando adorando Dio ringraziandolo per quello che lui ha fatto per noi ringraziandolo perché nonostante magari la nostra vita non non è mai stata come si dice in inglese uno stinco di santo ma Dio comunque ci ha amati anche se abbiamo sbagliato anche se abbiamo delle situazioni che ci dovremmo fare perdonare dal Signore ma quando Dio entra dentro di noi quando noi apriamo quella porta e lui entra dentro di noi e allora da lì si innesca una relazione col Signore da lì si innesca un rapporto personale col Signore e in seconda corinzi 3 versetti 17 e 18 dice ora il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore quindi contemplando pregando stando alla sua presenza adorando Dio questa relazione trasforma le nostre vite e vedere ognuno di voi che vi conosco da quando siete entrati in chiesa vedervi oggi diversi è il frutto di quello che che Dio ha fatto nella nostra vita non posso dimenticare di alcuni di voi che sono entrati scuri ma in tutti i sensi nei vestiti e nella faccia ma oggi siete splendenti veramente e questo è grazia di Dio vedere come il Signore cambia e trasforma attraverso l'opera dello Spirito Santo dentro di noi perché Lui agisce quando noi trova delle persone disponibili Amen e questo deve fare nascere dentro di noi una forte gratitudine nei confronti del Signore Signore grazie perché tu operi non sei lo stesso tu continui a lavorare giorno per giorno con ognuno di noi in una maniera diversa magari con Giuseppe in un modo con Enza in un altro con Margherita in un altro con mia moglie in un altro non sei uguale ma con ognuno di noi trovi le strategie giuste per poterci portare nella traiettoria e nella strada che tu hai stabilito per noi e quando la fedeltà di Dio l'amore di Dio si incontra con il nostro aprire la porta Signore io sono qua apro la mia porta io non lo so quello che tu farai ma io sono sicuro che tu lo farai non lo so cosa farai ma sono sicuro che lo farai ultimo verso mentre ci alziamo in piedi Isaia 40 versetto 31 ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze dichiaralo insieme a me Signore io voglio ricevere nuove forze si innalzano con ali come aquile corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi Matteo l'ultima slide è quella dell'aquila nella vita noi abbiamo un rischio sono entrambi volatili sono molto simili hanno due gambe hanno le ali hanno un becco noi possiamo rischiare di vivere da galline quindi guardando a terra guardando tenendo lo sguardo basso senza avere lo sguardo in alto verso il cielo è vivere una vita da gallina ma possiamo scegliere di vivere l'aquile l'aquila decide di sfruttare le correnti ascensionali l'aquila è furba la gallina potrebbe volare e certe volte quando uno entra nei pollai fanno dei mezzi voli ma l'aquila sfrutta le correnti ascensionali arrivano queste correnti in alto e lei si poggia su queste correnti e viene trasportata da queste correnti e sapete questo è un insegnamento per ognuno di noi perché noi possiamo vivere una vita da galline tenendo il nostro sguardo basso e non credendo che Dio possa cambiare le circostanze o possiamo vivere come le aquile condotti dalle correnti ascensionali condotti dallo spirito santo nella nostra vita come guida nella nostra vita e diventeremo in alto rapaci come le aquile che vedono dall'alto con una prospettiva assolutamente diversa rispetto a quella di una gallina e quindi questo verso ci dice ma quelli che sperano nell'eterno si innalzano in alto come le aquile ma quelli che sperano nell'eterno si innalzano come le aquile e Signore grazie perché io so Signore che questa sera tu stai innextando Signore in ognuno di noi Signore un desiderio Signore di essere condotti dallo Spirito Santo di vivere Signore la nostra vita spirituale Signore non come le galline guardando a terra Signore ma Signore portati in alto dalla corrente ascensionale da Te dolce e meraviglioso Spirito Santo e Ti chiedo che ognuno di noi possiamo prendere questa decisione Signore di camminare guidati da Te e come abbiamo detto Signore vogliamo adorarti perché adorandoti nell'adorazione Signore noi riceviamo Signore risposte nell'adorazione noi portiamo avanti Signore quel cambiamento e quella trasformazione Signore che Tu vuoi per ognuno di noi e Ti voglio ringraziare nel nome di Gesù Amen Amen